Il tema, siamo in questi giorni con grande umiltà, stiamo portando avanti, il problema del dolore. Da dove nasce il dolore, da dove nasce la sofferenza? E ho detto più volte che quando parliamo della divinità, se diamo a lei gli attributi dell'infinito e della potenza appunto infinita, dobbiamo anche però seguire il percorso degli gnostici. Quindi quella divinità non può consentire il dolore, perché se consentisse il dolore vuol dire che quantomeno o ne è in qualche modo artefice essa stessa, o complice di quel dolore, oppure non può prevenirla, in ogni caso è un limite. Quella divinità, quindi non essendo limitata, ma illimitata, non può essere che annenoethos teos, cioè inconsapevole, inconscia. E noia vuol dire consapevolezza, annenoethos vuol dire appunto inconsapevole. Dio inconsapevole, la chiave di volta è che quel Dio inconscio ha una radice nel nostro inconscio, è nella nostra interiorità profonda, entrando in quella nostra interiorità profonda che troviamo Dio. Ecco perché, vi ricordate, conosci te stesso. Ecco perché Monoimo, detto l'arabo, parla, vuoi conoscere Dio, ma guarda dentro di te. Ecco perché su questo poi coincide anche ogni forma di sapienza che indica, indica ogni forma di sapienza, indica qualcosa al centro di noi stessi. Quello che Giacobbe parla, quella porta che sembra così pericolosa, ma lì, lì, qui, qui, in quella porta, lì però, cioè come un giardino, quello, è quello la chiave di volta. E questa è la chiave di volta, lì bisogna andare, perché in quell'inconscio, osservando quell'inconscio, lì si trova Dio. E Jung questo l'aveva capito benissimo, ma Jung si muove dagli ignostici e dagli alchimisti. Per farvi vedere quest'altra opera di Jung, è il volume tredicesimo dell'opera di Jung, vedete, sono studi sull'alchimia, Jung, Bollati e Boringhieri. L'avevano compreso benissimo gli alchimisti. Allora, ricordo che la regia di questo promo è della trasmissione Anima e di Stefania Barone per la consulenza di Ennio Gregori, questo è una rappresentazione che ha fatto appunto Ennio Gregori. Vedete? Ecco, questo diciamo è il nostro, che lui liberamente ha tratto, ma l'ha tratto dell'opera di Jung. Vedete? Questo è il nostro io cosciente. Vedete? Questa è la nostra parte ombra, quella inconscia. E questa è l'anima per le donne anima, per la donna animus, anima che è inconscia essa stessa. Poi sull'anima dobbiamo parlare, perché sull'anima si dicono delle cose. Non è quella che voi avete in mente, che vi ha dato, come dire, una forma esteriore di culto. L'anima è un concetto profondissimo. È un tramite tra la parte cosciente e la parte incosciente. È la sede architipale degli dei, sia maschili che femminili. L'anima, che dà all'uomo Eros e l'animus, che dà alle donne razziocinio, precisione. L'anima, che dà all'uomo la capacità di connessione e alle donne la capacità di determinazione. La divinità all'interno di questa parte inconscia, vedete com'è piccola la parte io cosciente, quanto è grande la parte inconscia. Tutto questo però è dominato dal sé. Sé. O anche Dioniso. O anche Cristo. O anche Al-Kidir, nella tradizione mommettana. Sé. Questo. Qui, in questo sé, qui c'è Dio. Lì dobbiamo andarla a recuperare. Qui c'è la scintilla di Dio. Questa. Proseguiremo ovviamente in questi discorsi. Io vi prego di scrivermi se qualcosa non vi è chiara. Io cerco di fare umilmente il mio mestiere. Di ponte. Semplice trasmettitore di contenuti. Io non dico niente che sia mio. L'abbia tirata 66 00 195. Anima. Ci scrivete numerosissime lettere. Tra l'altro eccole qui le lettere di Lara Lari. Stiamo osservando. Lara Lari è quella signora che sta per essere sfrattata perché non riesce a pagare il mutuo di casa. In quanto avendo un figlio handicappato ed essendo morto col marito non ce la fa a pagare. Quindi noi dovremmo fare un altare a questa donna. Invece noi la mettiamo fuori di casa. Ma adesso si stanno schierando anche avvocati. Vedremo. La partita non è detta. Va bene, va bene. Non c'è spazio per le lettere. Ma vi assicuro che le reagiamo tutte. E ci date molto coraggio. Alcune sono bellissime. Vi ringrazio. Bellissime. Grazie mille.